5 secondi all'inserimento raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo nuovo caricatore carica speciale alla larga lancio un fumogeno a riparo rinnescata carica flashbang fuori attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia rimane un nemico prendete il contenitore di biorischio difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza muro in sicurezza il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio ancora 10 secondi cinque secondi il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio l'ora di una penna restaurata attivo il sensore attivo 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 ok Sì Sensori in campo Resta solo un operatore alleato Missione fallita Difensori uccisi Sì 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 Ormai non sono più un problema Ancora 10 secondi Restano 5 secondi Il drone nemico è diventato il contenitore di biorischio Cambio caricatore Porta, state alla larga Porta sicura Ricognizione Sensori in campo Ultimo nemico rimasto Squadra d'attacco eliminata Missione rispettata Perfetto Lontano Island Perfetto Altano Perfetto F gets chopping Perfetto Soccer C'è C'è Perfetto Luccer trovate il contenitore di biorischio ben fatto, il contenitore di biorischio è stato individuato 10 secondi all'inserimento ancora 5 secondi raggiungete la posizione del contenitore di biorischio grazie raggiungete la posizione del contenitore di biorischio raggiungete la posizione del contenitore di biorischio risistemo io cambio caricatore carica pronta eruzione carica pronta ultimo uomo per la squadra alleata mancano 10 secondi rimangono 5 secondi l'attaccante è stato eliminato la tua squadra la tua squadra Difendete la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Dispositivo in campo! Siamo a 5 secondi. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Dispositivo innescato. Ho una sorpresa per i nostri amici corrompino. Dispositivo in cerca di nemici. Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore. Detonazione. Sensore attivato. Credite al nemico di prendere il contenitore. Attivo il sensore. Attivo il sensore. Uso il sensore cardiaco. Attivo il sensore di biorischio. Il tempo scade tra 10 secondi. Ancora 5 secondi. Tempo scaduto. Il contenitore non è stato preso. Gli attaccanti hanno fallito. Gli attaccanti hanno fallito. Sì! trovate la posizione del contenitore di biorischio ben fatto contenitore di biorischio trovato inserimento tra dieci secondi 5 secondi all'inserimento contenitore di biorischio individuato raggiungetelo in l'area dell'esplosione il caricatore possiamo avvenire carica capulativa un solo difensore rimasto missione d'attacco riuscita un solo difensore rimasto barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio barricate il contenitore di biorischio muro rafforzato modificazione mura completata nuovo caricatore dispositivo in capo ancora 5 secondi dispositivo attivato proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi dispositivo attivato edd attivo stati alla larga dispositivo avversato un solo scudo posiziono il tappeto tra a una sorpresa per i nostri amici corrett un solo scudo Grazie. 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 15 secondi. Mancano 10 secondi. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Grazie.